Duello nel centrodestra tedesco per la successione ad Angela Merkel. Questa domenica, Marcus Söder, presidente della Baviera e leader dell'Unione Cristiano Sociale, costola bavarese della CDU, ha annunciato di essere disponibile a correre come candidato cancelliere alle elezioni di settembre, lanciando ufficialmente il guanto di sfida al leader della CDU, Armin Laschet. Siamo entrambi disponibili e interessati alla carica, ha detto Söder, quello che conta è il rispetto reciproco, non importa quale sarà la decisione, entrambi lavoreremo insieme in piena armonia. Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a candidarci, le nostre candidature sono sul tavolo, sappiamo quello che dobbiamo fare. Ora non resta che attendere l'esito delle consultazioni interne. Söder ha deciso di rompere gli indugi per sfruttare la crisi di consensi nella CDU e il calo di popolarità di Laschet, criticato di recente per le sue proposte sulla gestione della pandemia. Il presidente bavarese può contare anche sull'appoggio di alcuni membri della CDU che qualche giorno fa hanno fatto sapere di essere pronti a schierarsi al suo fianco e contro Laschet, candidato voluto da Angela Merkel, ma in viso allo zoccolo duro del partito. Grazie. Grazie.